Io sto soffiando sopra, è meravigliosa, guarda, fa effetto, si vede, carino. C'è strano, no? Io soffio sopra e il foglio si alza, perché? L'area che soffio sopra è molto veloce e c'è una legge che mette in relazione la velocità del fluido con la pressione. Quando la velocità è alta, la pressione è bassa. Quindi praticamente la pressione sopra è bassa. Quindi io ho abbassato il valore della pressione, no? Non è più un'atmosfera, è meno di un'atmosfera. La pressione sotto invece è rimasta più alta. Quindi sotto la pressione più alta, sopra la pressione più bassa, c'è una differenza di pressione che succede che il foglio viene sollevato.